ciao a tutti bentornati siamo qui siamo già sullo spot di pesca breccata oggi andiamo a calare col belli super belli ora abbiamo finito di preparare quasi tutto cominceremo a calare sono le due due e mezza del pomeriggio incrociamo le dita però qualche ripresa vediamo cosa viene fuori ok siamo ragazzi siamo in acqua stiamo uscendo col belli abbiamo qui la nostra montatura che ora ci dirigiamo verso il punto dove voglio calare questa prima canna abbastanza distante sinceramente però speriamo possa fruttare allora per chi non lo sapesse io sono pescare con la mia ragazza e quindi facciamo una pescatina così veloce calo un paio di canne adesso siamo arrivati nel primo punto dove volevo effettivamente calare la prima canna penso che farò una brecca abbastanza lunga credo che fino qui sia sufficiente apposta ora devo decidere quanto alto avere l'esca recupera posto e un'altezza di questo tipo posso andar bene allora intanto andrò prima a legare entrambe le canne e le esche le andrò a mettere giù successivamente logicamente per un problema di spazio insomma il belli non è un gommone e quindi sia un po limitati però ce la si può fare tranquillamente finiamo di legare la nostra break mi raccomando sempre lubrificate con un po di saliva va più che bene così ok questo modo abbiamo legato la nostra break ora chiediamo di mettere in tiro metti in tiro e vediamo il risultato penso che così posso andare più che bene ok come potete vedere anche la seconda canna l'abbiamo legata dobbiamo far veloce però perché sono le tre due ore comincerà già esserci buio quindi sbrighiamoci tornerò a riva preparo le esche che andrò a calarle dopodiché finiremo di preparare l'accampamento e saremo in pesca allora eccoci qua adesso la prima esca l'ho già calata ora ci appresteremo a calare la seconda non ho registrato insomma così adesso vediamo di sto registrando col telefono perché la copro l'ho lasciata lasciata su agganciamo ok perfetto moschettone attaccato apriamo il coperchio e ora piano piano e te che si è ritorato il filo mentre ci allontaniamo prendiamo il nostro bel secchio e via la nostra esca in acqua apposta abbiamo finito di calare le canne solo due logicamente siamo io e la mia ragazza che mi sta dando una mano a registrare abbiamo anche finito di accamparci come si deve abbiamo dato una riordinata preparato la tenda dobbiamo gonfiare il materassino però sarà complicato perché non abbiamo la pompa quindi dobbiamo gonfiarlo con la bocca poi come al solito anche stasera stiamo tranquilli con i super avvisatori di david i ceracat seguite pure su instagram e su facebook una bomba sono questi per fortuna è venuto jacopo ragazzi aiutarci che abbiamo delle complicazioni con il materassino di difficoltà tecnica qui vengono fuori gli anni anni di esperienza ragazza tutta pratica per fortuna è venuta per fortuna è venuta In fire My darling, rose in fire You liar You say, my darling, rose in fire In fire You say, my darling, rose in fire You liar She was my sponsor, won't shoot Swimmin' in the rose, swimmin' in the rails I'm trying to let go I'm going to get you in the water I'm going to get you in the water Yeah, yeah, yeah What a fun Yeah, yeah, yeah 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 And it's the first day of the night Eccolo qua, pesciotto piccolino Siamo qui attorno penso al metro Metro e dieci Sembrava molto più pesante Però invece dai, eccolo qua Guardate, ho mangiato benissimo Eccolo qua Il primo, speriamo, pesciotto di questa sera Nulla di così speciale però dai Intanto abbiamo scappottato Ora andiamo a rilasciarlo subito Dai, quello dice, andiamo Per andare Ole Allora siamo qui Noi abbiamo cenato Adesso siamo qui col fuoco Per il momento abbiamo fatto un pesciotto Io ho provato ad uscire colbelli per ricalare Però purtroppo con l'acqua fredda Mi è venuto un crampo alle gambe Per fortuna che comunque avevo il filo della canna in mano E quindi mi sono fatto praticamente recuperare da Jacopo Quindi state attenti E adesso a me resta una canna giù Siamo ancora in pesca E vediamo se abbiamo un po' di fortuna 5 e mezza del mattino Sbreccata secca E' partita un'altra canna Con questo bel pesciotto Non è lunghissimo Però è veramente grassa Ha una pancia gigante Saremo attorno al metro e trenta Ma ha un bel testone Veramente Procediamo con il rilascio Del pesce Ecco qui il risultato Ho dovuto tagliare Perdo un po' di aria Amen Buongiorno a tutti Sono le 9 e un quarto Ci siamo svegliati da poco Contro tutte le nostre aspettative Sono partite entrambe le canne Però purtroppo La seconda è partita Alle 5 e mezza Di questa mattina E ho registrato qualcosa Con la GoPro Ma non so Quanto si veda Perché comunque Avevamo i telefoni morti Sia io che la mia ragazza Quindi non abbiamo potuto registrare O fare chissà che foto e video Era un pesciotto Un po' più grosso del primo Saremmo stati attorno Al metro e trenta Al metro e quaranta Era veramente ciccione Si vede che stanno mangiando Prima dell'etargo Io colgo l'occasione Per dire che Per me La break line Per quest'anno Finisce qui Non dico che magari Verso Natale Una pescata Un po' Magari a pietra Però la break line Io chiudo Perché c'è freddo Freddo da cani Da morire E poi comunque Si sa I pesci vanno anche Un po' in letargo Quindi mangeranno Più e meno I'ma give it everything I got I'ma give it everything I got M Grazie a tutti